Fondamentale per l'impostazione dello studio della sezione è la definizione dei materiali. Geoforce One permette di inserire i materiali attraverso la voce Materiali presente nella barra del menu o cliccando direttamente con il tasto destro nel menu ad albero sulla voce Materiali in cui sono distinti strutturali e di rinforzo. Per gli elementi rinforzati in cemento armato i materiali da definire sono chiaramente calcestruzzo, acciaio e materiale del rinforzo. Per definirli è necessario una volta entrati nella tendina Materiali cliccare sulla voce Aggiungi e quindi inserirne le proprietà. Per quanto riguarda calcestruzzo e acciaio il software possiede una biblioteca dei materiali presenti sul mercato per i quali sono già definite le rispettive caratteristiche permettendo di modificarne solo i campi evidenziati. Accanto alla possibilità di usufruire di tale biblioteca il programma permette di definire calcestruzzi e acciai dalle generiche caratteristiche selezionando nella tendina Preset la voce In situ e inserendo i valori desiderati per i parametri editabili. Per quanto riguarda la definizione del sistema di rinforzo è possibile inserire in GeoForce One GeoSteel Geolite Magma selezionabili nella medesima modalità. Attraverso la voce Preset si inserisce la grammatura di GeoSteel da utilizzare. Con tipo di supporto si definisce materiale su cui il rinforzo andrà applicato e con tipo di matrice la tipologia della matrice scelta. Attraverso l'editor GeoSteel cliccando sull'icona Info GeoForce One fornisce all'utente la possibilità di visionare le caratteristiche meccaniche delle varie matrici. Per la definizione del Geolite Magma occorre invece indicare attraverso la voce Preset la tipologia di Geomalt da utilizzare e i parametri editabili. Definiti i materiali è possibile visionare e modificare in ogni momento le loro caratteristiche attraverso il menu ad albero cliccando con il tasto destro sul materiale desiderato. Per la definizione di sezioni in cemento armato precompresso accanto alla scelta di calcestruzzo e acciaio occorre introdurre l'acciaio armonico. Definibile analogamente a quanto visto per gli altri materiali con la distinzione che in questo caso l'utente non dispone di una biblioteca ma deve inserire i valori delle grandezze meccaniche poste nelle caselle editabili. Per le sezioni in muratura il software fornisce alcune tipologie nella libreria implementata in cui bisogna definire le proprietà meccaniche della muratura inserendo il valore della resistenza a compressione media dei blocchi, il coefficiente parziale di sicurezza, nonché il fattore di confidenza. Si aggiunge che i materiali implementati nel software fanno riferimento a valori tabellati forniti da normativa. In particolare per la muratura i valori sono estrapolati dalla tabella C8A2.1 delle NTC 2008 in cui vengono forniti i parametri meccanici massimi e minimi, quali resistenza media a compressione e a taglio, nonché i valori del modulo elastico normale e tangenziale e il peso specifico della tipologia di muratura scelta.